Sì, rubo solo due minuti perché comunque è un problema annoso di cui abbiamo discusso varie volte in commissione, in maggioranza e anche con il presidente Stefano. Sicuramente in questa mozione la ZDL viene rappresentata come la panacea alla soluzione di tutti i mali che affliggono il commercio, così non è naturalmente, questo motiva la posizione del no dei miei colleghi. Il mio voto invece sarà di astensione perché sicuramente il sostegno alle imprese non deve mancare, non spero tramite l'apertura della ZDL che è un palliativo, anche se sarebbe un segnale di sostegno alle imprese, ma con ben altri segni di sostegno che questa maggioranza sta discutendo e che saranno oggetto appunto di un'interlocuzione di maggioranza con le commissioni competenti e poi con le associazioni di categoria fin dalla prossima settimana. Quindi io mi asterrò dal votare questa mozione perché in altro modo si risolvono i problemi del commercio e non con la ZDL. Grazie Presidente.